bello a tutti ragazzi sono qui le benvenuti che no cosa avete fermo allora io adesso vi metto in castigo scusate ragazzi non mi hanno fatto fare l'into perché sti mannaggia di pupazzi di neve sono usciti dalla zona alfredo e ghiaggio vanni ghiaggio vanni perché è ghiacciato e alfredo perché fa freddo scusate per la battuta di schifo e allora questi due furbetti mi sono scappati non mi scappete più è capito guardami in faccia quando ti parlo mi guardi alfredo mi guardi in faccia quando ti parlo allora dopo questa questa parte di video imbarazzante bella ragazzi sono quelle benvenuti in questo nuovissimo video io ok prevedo un lungo momento di per preparare scusate rimettere a posto qua oggi ragazzi oltre a sistemare sto disastro vorrei andare in miniera e niente comunque il primo video che ho fatto su minecraft in questo mondo è stato quello dove ho mostrato questo mondo qua effetto comunque ragazzi se qualcuno di voi è esperto di minecraft sa perché io con i miei amici non li posso invitare se li invito non possono entrare cieli dice che accesso negato tipo una roba così mi stanno chiamando perdonatemi allora scusate un attimo ragazzi abbiamo qua il nostro che non è scusate sulla play però mi ha chiamato come avete sentito 917 che mi ha detto questa roba qua ma a me mi da che accessibilità allora chiamami da whatsapp che almeno ti faccio cioè ti faccio vedere che è già in multigiocatore in modo multigiocatore vai allora mi ha detto che tipo è successo che bisogna mettere qua su multigiocatore e mettere partita multigiocatore e lo è e adesso che rispondo eccoci qua eccoci qua allora guarda a me da così io non posso c'è mi da tipo che è una roba che non posso cambiare eh ma aspetta credo di aver capito aspetta un attimo che metto giù la fotocamera ragazzi credo scusate se questo video è un po fatto così allora provo ad abbandonare e magari la cosa eh lascia lì speriamo che non mi sparisca ehm la cosa che penso di fare è che tipo vado in questo mondo qua al posto di avviarlo vado su impostazioni e però ci vuole un'ora e mezza di caricamento aspetta che intanto se mai ti faccio vedere anche a te no si vede benissimo eh allora scusate per ok allora abbiamo fatto devo andare qua sulla matita credo e vado qua multigiocatore ehm solo solo invito metto solo amici ok adesso ehm te non puoi accendere la play per fare una prova grazie che almeno risolviamo questo problema ti ringrazio un botto e ragazzi questo video eh se mai lo intitolo eh tipo come risolvere un bug dell'invito degli amici così e io pensavo di mettere tipo episodio 1 episodio 2 episodio 3 il primo facciamo che non è un episodio cioè un episodio che fa vedere solo la mappa non c'entra col gioco che ne dite? che ne dite? comunque veramente ci vuole un'eternità per avviare sto mondo riuscire ad entrare nel party? no vabbè è super veloce ok va bene allora aspetta che non ho capito perchè ci mette così tanto raga di male impiegio andiamo va bene intanto metto ok dai caricamento sarà allora adesso dimmi appena ti posso invitare no un attimo è ancora un amici c'è Dixie? si vado? no aspetta se mi voglio dire così ok ok speriamo tantissimo che funzioni allora io adesso Claire ti ho invitato si eccolo è arrivato tutti colori di te non volevo scassare il pagamento non volevo scassare il pagamento che cos'è? no name tag no game tag boh metti tipo 9007 e roba così no come è scritto Aquila official aquila official boh così no io qua ho aquila tattino basso official intanto vediamo sta farm di pollami si fa proprio poco niente qua c'è un mio un altro pupazzo di neve che sono troppo carini pupazzi di neve ho fatto di merda sta base però vabbè dai pazienza o fa sei risolto funziona? un po' l'è moto un po' l'è moto praticamente non c'è un po' l'ovivoli allora vediamo se riesco oh ce la posso fare un altro temporale devo andare qua non mi fa niente fare niente e se scusate ragazzi questo video dura tanto solo per questo ma abbiate pazienza e quindi a te non ti è funzionato? ma comunque comunque sto problema non capisco perché succede si ma sta cosa non è che mi va giù c'è cosa metto? metti come ero prima solo amici da? vai sotto cos'è che c'è sotto? solo sotto no solo amici di amici c'è poi solo amici allora perchè se così non funziona cosa dobbiamo fare? facciamo che se funziona ragazzi seguite questo video come touch si funziona ho detto eh poi non mi date la colpa se non funziona eh ok vedo il mondo aspetta che non sono ancora un commentato che ci mette un nei tenni ok vai ok vai ho provato ho provato ad entrare ma di te non mi ha fatto fare niente prova ad entrare si ma qua non nascono pollani devo fare così ma perchè non mi fai entrare? provai invitati? eh prova si ultimo tentativo eh non ti vedo più ma ma va che una cosa incredibile no adesso si aspetta 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 un attimo non ti vedo aspetta non ti vedo adesso non ti vedo adesso non ti vedo adesso ehm un attimo qua vai ti ho invitato ok dopo le che doveva andare al monezzaio e riempiamo qua bisogna continuare grazie ciao ciao ragazzi noi continuiamo il video questo si che è un bel problema allora guardate adesso che ne nascono di polli allora eeeh speriamo che riusciamo a sferisci cosa che c'ho oggi? speriamo che riusciamo a sistemare questo problema scusate se continuo a sbagliare a parlare così però non so perché ah che bello però questo mondo raga allora allora poi buttiamo questo sarebbe poi anche bello tipo organizzare con anche voi fan una un mondo però se mai dovessimo farlo le regole sono non si distrugge niente o magari tipo aiutare tipo costruire cose non tenere tutto per sé anche tipo pensare agli altri e non pensare a se stessi queste saranno le regole una nuova vanilla una nuova vanilla tutti noi fanno tutti voi fanno e no e io c'è eeeh ah no io dovevo andare in mini è vero no volevo andare a esplorare qualche caverna tipo una nave wow wow scusate l'ho fatto così a caso bella però comunque come nave non devo prendere no no ce l'ho fatta allora se mai andiamo a esplorare una caverna se la troviamo se vedete che ho due più con il diamante che quello sopra è con tocco di velluto infatti l'ho sopronominato così perché sennò lo uso magari quando devo minare i minerali come ho fatto in precedente allora andiamo a svuotarci del tutto poi ho visto una cosa che no ma sono appena andato al money side devo ritornarci ah vabbè allora eeeh semmai metto qua tutta la roba che non mi serve allora semmai ci facciamo una cassa adesso a parte dov'è eccolo qua quattro ce ne avevo già ah così non andiamo d'accordo allora mettiamo tutta la roba che non mi serve ci teniamo tentata a farci dai questo no questo no questo no questo sì questo no 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 ok vediamo se qua vediamo allora qua abbiamo fatto un botto di carbone che lo mettiamo qua e qua metto qua c'è l'altro carbone va bene allora primo dobbiamo prendere questo pollo qua e credo che non ci basta come cibo ma se facciamo così dai nel prossimo episodio andiamo in mini in questo episodio invece facciamo che se ne va in sistema mi preparo ecco quello che volevo fare allora mettiamo casa di spazio no a capo scusate a tino basso o ufficio perfetto che bello possiamo partire abbiamo detto che però non andavo in miniera subito e semmai facciamo qua ci sono dei polli chiudete un attimo gli occhi ancora un attimo un attimo ok oh ma sono spariti visto che sinceramente questa cosa qua è un po' inutilissima quindi lo togliamo e le facciamo un po' di piazza pulita ma quanto scava forte sta stascia sembra di essere in creativa secondo me sono uno stacchi 10 40 si è un po' esagerato allora poi c'è anche questa parte di miniera ma sinceramente non mi piace molto oh io mi stavo liberando del cazzo e le ho tenute facciamo così che fa scena ci sta un botto allora mi è arrivato a svuotare perché lì è bucata scusate avete visto tutti? cioè sono entrato da là e sono uscito da qua perfettamente che bella no secondo me qua c'è un buco allora devo andare no prima da un monnezzaio sembra una persona monnezzaio buongiorno allora buttiamo giù questa dai bo dai almeno oh che bello ammazzando non è bello ammazzare dei polli però ammazzandoli adesso ho più cibo semmai porto giù metto giù il cibo che ho preso anche prima in più tanto non mi serve che tristezza però che la mia fan di polli fa schifo un po' no cioè l'unica cassa che ho in ordine è questa del cibo veramente è una roba incredibile allora poi devo svuotarmi e devo lasciare giù queste due cose anzi no queste due cose le mettiamo qua cerco di tenere un po' di ordine ma tanto non riesco mettiamo uno stack vabbè vabbè lì lasciamo lo slot libero i razzetti però stiamo finendo allora come si fanno i razzetti anzi semmai facciamo così finisco queste cioè dopo questi episodi appena finito di registrare semmai me li procuro non volevo andare in acqua volevo fare questo questa cosa qua è una cosa che ho utilizzato mio fratello quando costruiva il ponte lì sinceramente sta roba non serve quindi vado a prendere il mio accendino la bruciamo e poi distruggiamo tutta l'azzata e poi vi lascio cioè scusate i video qua diventano hanno tante visualizzazioni va che magari faccio le live dipende tutto da voi e se volete che faccio le live di minecraft basta che condividete il video a qualche amico che piace minecraft non che magari lo odia comunque non so perché prima non ho mai fatto video di minecraft perché sinceramente mi annoiava perché ci giocavo già un po' di anni fa e poi mi ha annoiato invece adesso non essendoci giocava cos'è che c'ho oggi vabbè lasciamo stare dai c'ho c'ho pure lascia c'ho lascia io fantastico se mai come ho detto di razzi ne faccio tanti tanti almeno poi per un po' sono a posto frena poi come sentite hanno messo delle nuove canzoni su minecraft allora devo prima cosa mettere giù questo tre casse c'era ok facciamo così ragazzi io vi lascio quindi ciao a tutti e alla prossima